6 arresti ed oltre mezzo chilo di marijuana ed hashish recuperato. E' questo il bilancio dell'indagine svolta dai carabinieri di Arezzo e che ha interessato a gran parte della provincia. La conclusione dell'attività è arrivata dopo 10 giorni di pedinamenti, controlli ed osservazioni da parte dei militari di Arezzo con l'ausilio dei colleghi di Cortone e dell'unità cinofila antidroga di Firenze. A dare lo spunto investigativo alcuni servizi svolti durante un rave party in Prato Magno e in occasione della festa della birra a Prato Vecchio alcuni consumatori sentiti dai militari avevano dichiarato di averla acquistata ad Arezzo da pusher della zona. Le indagini hanno così preso avvio e si sono concluse con l'identificazione di 6 presunti pusher e del loro conseguente arresto. A finire in manette un 41enne tunisino, una 24enne di Castiglion Fiorentino, un 31enne di Oristano, due aretini di 27 e 38 anni ed infine un 39enne fiorentino. Ad incastrarli alcuni dei loro clienti che li avevano indicati come spacciatori. I militari dell'arma nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari hanno sequestrato 258 grammi di mariguana, 392 grammi di hashish e 5 grammi tra eroina e cocaina. Per lunedì è previsto per alcuni degli arrestati il rito direttissimo come disposto dal PM Marco Dioni, titolare dell'inchiesta investigativa dei militari.